Se continui così, perdi il treno. Cucù! Superdesign! Il linguaggio del design è il linguaggio di mangiare una città proprio. Se avversi la macchina puoi togliere qualcosa. Posso fare dei moviti di torso? Se devo parlare di me, io mi sento ancora oggi un radicale. Buongiorno! Il design radicale non è mai esistito. In ogni quale sei, devi essere radicale nel spirito, nell'architectura. Sì, abbiamo usato il termine rivoluzionario. Questo Olivetti non è male, scricchiola tutto! Nel Stato Unito, si mettono il pop art sul luogo. In Italia, si mettono il luogo e vivono con il luogo. Prima di usare l'architettura radicale, il termine che era usato per la nostra produzione, era anti-design. Il delirio di poter progettare tutto. È stata un'avventura alla quale ho partecipato per caso. Comunque sono contento di averla vissuta. È stata una bella stagione, una bella primavera. vita, educazione, cerimonia, amore e morte. Life, educazione, cerimonia, amore e morte. Superdesign è qualcosa da andare e scoprire. Grazie a tutti.